sono le scime e per me ecco qua ecco qua ma dove ero sti oggi lì fu mandato il schiavottiero non si uffidisce a che sono da presenza andiamo bene fammi sentire ma io sono venuto pure prima a sti figli vostri che hanno ammurato e me lo sono giunto ha già fatto un po' ah si si ha fatto un po' però poi racconta perché ora sono poco preoccupato e tu sei stato preoccupato a farlo io mi sono rivolto all'uomo di grande esperienza a un zanzale specialista a uno? un zanzale come quello che ha fatto in casa che si fece a fare la madre no? ha già capito ha già capito mi tengo una sola amica è morta ma sono giusto a tutti e che lì da 4 a 4 ha toccato il tuo marito surdo sono passato 10 anni essi non vanno essi non vanno essi non vanno e stanno felici e contendo ha già capito si papà ha già capito che questi sono sciocquezzi che non mi interessano fammi capire la persona di Napoli è venuta? si signor come vuoi che sta con me? quanto vuoi che vuoi la caccia a muo bravo e allora valla figlia e porto il carro però state atti si saprei si saprei in giro a Gabriele lo ha innamorato portatevi immediatamente la votare mi raccomandici mi raccomandici mi raccomandici mi raccomandici mi raccomandici mi raccomandici non mi raccomandici non mi raccomandici poter ne sia Grazie a tutti.